New Year's Eve è il titolo della festa di Capodanno in programma a Piacenza per salutare il 2017 e dare il benvenuto al 2018. È questa una delle iniziative in calendario nel periodo natalizio deliberate dalla giunta guidata dal sindaco Patrizia Barbieri. L'idea dell'esecutivo è quella di una cena sotto i portici di Palazzo Gotico con intrattenimento, lo ha dichiarato l'assessore alla valorizzazione del centro storico Filiberto Puzzu che aggiunge, vorremmo far tornare i piacentini a festeggiare San Silvestro nella piazza simbolo della nostra città. L'appuntamento è inserito nella delibera di giunta dedicata alle iniziative del periodo natalizio che prevede uno stanziamento di 22.000 euro, nello specifico 15.000 euro sono destinate all'organizzazione del Capodanno, mentre 7.000 sono destinate ad attrazioni con artisti di strada, musicisti e cabarettisti in centro nei fine settimana che precedono il Natale. Il comune metterà una minima parte, specifica l'assessore Filiberto Puzzu, il resto verrà compensato con contribuzioni economiche di soggetti terzi. A breve verrà emanato il bando per l'affidamento dell'organizzazione degli eventi. Confermato anche il mercatino natalizio in piazza Cavalli che tornerà dal primo al 24 dicembre. In piazza ci saranno le bancarelle natalizie, quelle delle associazioni di volontariato saranno collocate sotto i portici e la novità della 2017, spiega l'assessore Paolo Mancioppi, è l'aggiunta degli stand con i prodotti tipici locali. Verrà lasciato poi uno spazio libero per consentire lo svolgimento delle iniziative di intrattenimento. Per l'illuminazione di piazza Cavalli, piazzetta Plebiscito e giardini Merluzzo sono ancora in corso di definizione i dettagli tecnici. Le luci dell'albero di Natale che verrà allestito in collaborazione con Confindustria in piazzetta Mercanti verranno accese il 3 dicembre.